Io sono innamorata del mondo dei cavalli e questo grazie alla mia bambina che da sempre ha questa passione nata per i cavalli perciò sono di conseguenza entrata anche io a contatto con questo mondo meraviglioso e a tornare qui in fiera è sempre bellissimo ormai partecipo alla fiera da tantissimi anni è sempre uno spettacolo magnifico a partire dai gala dagli eventi allo street food io adoro fiera cavalli verona mia figlia a salto ostacoli e del cavallo mi affascina cioè mi affascina proprio il rapporto che si crea tra l'animale e l'atleta questo a volte entrano in una complicità che sembra quasi impossibile sono con tutta la famiglia e abbiamo fatto un po di shopping abbiamo mangiato qualcosa adesso andremo a vedere il jumping grazie a tutti grazie a tutti